In attesa dell'ufficializzazione che dovrebbe arrivare nelle prossime ore, Roberto D'Aversa sta già lavorando a Lanciano che verrà il neotecnico Rosso Nero già da giorni e gomito a gomito con il direttore sportivo Luca Leone per studiare le prime mosse di mercato. Fino ad oggi l'unica operazione ufficiale è stata quella della cessione in prestito dell'attaccante Mohamed Fofanà alla Catanzaro. Ci sarà molto da fare in entrata per rinforzare anche numericamente un organico oggi orfano dei tanti prestiti tornati a destinazione. Si ripartirà facendo comunque affidamento sulla vecchia guardia che non ha mai tradito, ma Marella, Menta, Turchi, Aridità e Aquilanti rappresentano le certezze per la Virtus del futuro. In questa settimana si punta a chiudere l'operazione Ducarà. L'ex attaccante della Juve Stabia di proprietà del Catania sarà il primo rinforzo per l'attacco. Con la Roma si punta a chiudere anche per Frediani l'anno scorso all'Aquila. Il forte centrocampista ha già dato l'assenso al suo trasferimento in terra frentana. Ma la società rossonera punta anche quest'anno sulla linea verde. Fra i giovani sul taccuino di Luca Leone ci sono Ivarinava, Gagliardini, Conti, Dudu e Gallo. Intanto prosegue la campagna abbonamenti iniziata il primo luglio. Fino all'11 ci sarà tempo per la prelasione per i vecchi abbonati. Dal 4 agosto fino a fine campagna ci sarà la vendita libera. Intanto mercoledì l'assemblea di Serie B annuncerà anche le date dell'inizio del prossimo torneo. Il via è previsto il 29 agosto. Sono in tre a Tremare, Brescia, Siena e Novara. I toscani sono quelli messi peggio. Se qualche società dovesse dare forfè verrà anticipato il progetto del presidente Abodi di portare il torneo di Serie B a 20 squadre.